A regà, a regà, il Milan ha preso il nuovo Thierry Henry, ma che è sto ciugo? Il Milan ha preso il nuovo Thierry Henry, così pare, ha preso Emil Robac, lo ha prelevato direttamente dall'Amerby ed è il secondo colpo ufficiale della campagna acquisti rosso-nera. Se volete video anche sull'altro ragazzo che appunto si è acquistato dal Milan, sempre molto giovane, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e soprattutto lasciate tantissimi mi piace qua sotto per supportare appunto questi video. Detto questo, qualcuno dirà, Sic, ma questo chi è? Io vi dico un 2003 e voi direte, Sic, ma avevi video pure sui 2003? Beh, tre anni fa, quattro anni fa o due anni fa o anche l'anno scorso qualcuno lo avrebbe potuto dire. Beh, probabilmente sta passando velocemente il tempo, oggi mi sono reso conto che un 2003 ha 17 anni, quindi tanto giovane non è, nel senso sì è giovanissimo, ma piccolo piccolo, un bambino non è, non è uno di quelli presi per fargli fare la legna per sei anni nel settore giovanile, penso che entro un paio d'anni. Se questo ha la stoffa, se questo è forte, lo vedremo in prima squadra. Arriva dall'Amarby, l'Amarby ragazzi lo sappiamo tutti, l'Amarby è il club di Zlatan Ibraimovic, essendo il club di Zlatan Ibraimovic ovviamente Ibra ha fatto da garante, Ibra ha garantito in generale. Per lui ha garantito per il Milan e il Milan ovviamente ci si è trovato benissimo nel fare quel tipo di offerta lì. Quindi viene definito il nuovo Thierry Henry, perché viene definito il nuovo Thierry Henry? Da chi viene definito il nuovo Thierry Henry? Non da qualunque uomo al mondo, non da qualunque coglione al mondo, bensì dallo stesso Zlatan Ibraimovic, che da una parte voi direte beh grazie al cazzo, nel senso il club è il suo, i soldi li prende lui, chiama lo scemo e tutto sommato sono d'accordo con voi. Dall'altra parte però credo che Ibra voglia bene al Milan, credo che Ibra voglia bene all'Amarby, credo che Ibra faccia le cose fatte per bene. Avrà visto questo giudice e ha detto guardate prima che lo vuole qualcun altro, prima che se lo prende qualcun altro, prendetevelo voi perché potrebbe veramente essere forte per il futuro, potrebbe essere una garanzia, quindi pagatelo quella cifra che insomma chiedo io in realtà, che chiede la società perché lui ha preso delle quote, non ha tutto l'Amarby, e prendetevelo, accaparratevelo perché potrebbe veramente essere utile, utile, utile. Innanzitutto va detto che quest'operazione è chiusa a un milione e mezzo, due milioni circa, qua su TransferMarket si parla di un milione e mezzo, mi è cascato tutto, molti altri parlano di due milioni di euro, proprio per questo sinceramente mi viene anche da pensare, oh porca la vacca, sinceramente anche per questo mi viene anche da pensare che probabilmente il giocatore sia valido, perché tu non vai a pagare due milioni di euro, un calciatore semplicemente perché è bello, perché è De Ibra, perché vuoi fare un acquisto a cazzo Madecanis, probabilmente lo hanno monitorato, lo hanno valutato, e alla fine sono riusciti a capire che può davvero fare al caso loro. Che tipo di giocatore è? È un centravanti, un centravanti per nulla tipico, è un centravanti molto fisico, è un centravanti che potrebbe aspettare il pallone, o almeno questo aveva dimostrato di fare in Svezia. Poi piano piano, piano piano succede che il calciatore, succede che il calciatore si ambienterà al calcio italiano, e eccola lì, eccola arrivare che succederà, che appunto Slatani Breivic, questo nuovo acquisto rosso-nero probabilmente, riuscirà ad adattarsi e diventerà un giocatore molto più particolare rispetto a quello che ci ha abituato, ci ha abituato per chi l'ha visto, insomma, chi è che l'ha visto a vederlo in Svezia, sette presenze, fa un paio d'assist, quindi si presenta come calciatore interessante. Lo volevano tra l'altro anche Bayern Monaco e Arsenal, quindi assolutamente non due compagini scarse, anzi due compagini davvero molto forti, due compagini che puntano tanto sui giovani, sia il Bayern Monaco che l'Arsenal, solitamente il Bayern Monaco punta sui propri giovani, quindi giovani o della Bundes o del calcio tedesco, mentre invece l'Arsenal ci ha abituato a puntare in generale sui giovani. Ecco, questo era un giovane perfetto per l'Arsenal, il Milan arriva e ruba tutte. Che cosa farà lui? Allora, innanzitutto va detto che lui si ha fatto dai 12 ai 17 anni lì all'Humberby, poi è stato prestato un anno, ma niente di eccezionale. Probabilmente arriverà al Milan e farà qualche giorno di primavera, qualche giorno di calcio giovanile. Successivamente, con tutta probabilità, verrà aggregato immediatamente da Pioli in prima squadra e inizierà a fare qualche presenza, inizierà ad imparare da Ibra qualcosa e pian piano credo che appunto diventerà presenza fissa in prima squadra. Io a questo acquisto faccio fatica a dare un voto, però lo volevo dare, o volevo comunque, come faccio sempre poi, do il voto sempre alla fine, semplicemente perché è un giocatore molto interessante ed è un giocatore che in ottica futura potrebbe spaccare tutto. Visto l'acquisto, visto il prezzo, visto che garantisce Ibra, mi sento di dare un 7, anche se poi il voto è molto campatinaria e lo valuteremo pian piano. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Voglio sapere voi che cosa ne pensate di questo acquisto. Tantissimi mi piaci, vi ricordo che è un secondo canale, Sikolf Calcio 2.0, dove pubblico due contenuti al giorno. Passateci, oggi abbiamo parlato di Gekuela Juventus, abbiamo parlato di tutto veramente, tutta la serie A, soprattutto nei titoli di Gekuela Juventus e della nuova Inter. Fatemelo sapere con un commento qua sotto, ma quando passateci, buonasera dall'alene come sempre. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!